Bruno Desso Bruno Desso succede strano raggiungi in città e chi chiamerai? Bruno Desso se l'uomo è vero guarda nel corretto chi chiamerai? Bruno Desso Bruno Desso Bruno Desso wow 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 amici sono ritornati all'insegna del divertimento e io sono Bruno Dizzul e io è Anthony Draco siamo pronti per andare a cercare di nuovo fantasmi ma stavolta si va in mezzo alla natura mi sa aiuto nonna aiaiaia porca caccia la miseria Bruno e vai da piano si scusa ma c'è una mosca qua che mi da fastidio nonna fastidio caccia la miseria allora se non sbaglio ci avevano detto che era un grosso rinoceronte hanno avvistato un grosso rinoceronte e cosa c'entriamo con il rinoceronte e con il fantasma? è appunto questo il problema il fantasma è un grosso rinoceronte ah allora è diversa la cosa porca caccia la miseria eh Bruno guarda che sbagliato strada eh eh vabbè aspetta un attimo facciamo la retro via 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 ecco di qua la dire adesso ma no ma guarda che non posso andare di lì caccia la miseria ecco mi sto rompendo tutto il pullman di qua a destra vai guarda guarda aiuto aiuto via caccia la miseriaccia oh guarda guarda aiuto aiuto eh non mi va non mi va più l'autobus vai con calma che va eh si vai con calma che intanto va aspetta frena 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 di qua a sinistra devo andare ecco allora si va su di qua eh ma c'è anche delle chi è che ha fatto sì c'è stato qui no no vecchia maronna santa vecchiaccia perchè lei è qua vecchia Bruno anch'io però l'ho sentita e l'ho vista ah lei ah parca basta chi è dove sei vieni fuori ahahah ahahah senta per favore sei nascosto su quest'auto pesca e che non hai divertente eh eh non risponde niente la signora eh cucù eh cucù cucù che cosa cucù ce l'ho qua ce l'ho qua bello eh ecco meno male signora si perchè stavo parlando con il mio marito il cittino qua bello ciao Bruno cosa c'è signore ma porca c'è la miseria lui ha digerito lui ha digerito lui ha digerito io l'ho scorreggiato allora ecco vabbè ma dai ma Bruno tu fatti i cavoli tuoi stai ormai con questi vecchi bisogna parlare con questi vecchi bisogna parlare con la lingua stragotta e quindi bisogna parlare giusto ecco il figlio di fiori vabbè Bruno poi siamo vicini ho capito adesso non fermo vado a raccoglierlo eh cosa raccoglierlo il figlio dei fiori eh figlio dei fiori vado a raccoglierlo vado si vado si che bello dai guarda c'è anche il mercatino della frutta qua che bello anche bello il mercatino della frutta io vado a mangiare la frutta va va Bruno siamo arrivati questa è la zona ok ok mi fermo signori state su perché hanno avvistato un grosso rinoceronte fantasma eh si dov'è Bruno? eh non lo so signore stiamo andando a caccia adesso ma signor signor vai girare vai girare le fante fai partire un attimino lo scaldati che io sto facendo aspettate ma dove cavolo sarà? Bruno qui avanti arrivo arrivo signora lei mi raccomando eh facciala brava eh eh vite sempre vite e se io lo catturo subito eh lo catturo subito si si ora Bruno guarda che bello l'inoceronte che ho trovato aia è partito è partito il signor Paolo lo sta bene Paolo? ecco allora vieni il fantasma vieni Ettone lo sta bene l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato eccolo la eccolo la che corre silenzio 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 andiamo andiamo a che l'abbiamo trovato molto piano eh l'abbiamo trovato minuto minuto pronto piano oh oh ci hai visto ci hai visto ci hai visto scappa 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 aiuto aiuto maronna ci segue ci segue maronna aiuto 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 Bruno Bruno non lo so il mio indietro scappa Ettoli scappa sconditi ma cosa nasconditi signora quello è un fantasma aiuto altro che fantasma mi sa che è un ruceronte vero caccia di miseria aiuto 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 mamma mia aspetta aiuto mamma mia meglio che salvo aiuto ecco ah siamo qui in alto siamo sopra il pullman state qui eh adesso cosa vuoi fare eh è scomparso è scomparso è scomparso è scomparso un'altra volta bruno è sempre qui nella zona però mi sa eh non riesco a capire beh qui è no l'ho visto inserire là con la casetta là quale casetta signora quella lì il gabinetto che c'è lì ma un gabinetto non ce n'è che gabinetto da natura che c'è lì che c'è lì bruno l'ho visto dove dai 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 brutta la trappola brutta la trappola l'ho buttata chiudi gli occhi aspetta vai ora l'abbiamo preso abbiamo preso l'abbiamo preso l'abbiamo preso l'abbiamo preso l'abbiamo preso evviva bravo bravo bene 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 bravo sicuro andiamo andiamo sopra signori il nostro secondo fantasma catturato Bruno che cosa c'è? non abbiamo ancora finito come non abbiamo ancora finito? qui a 200 metri c'è un altro caso come un altro caso tra 200 metri? andiamo 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 a vedere eh cosa suonate? pistola anche tu non potevi dirmelo prima? che ce n'era un altro caso? che colpa ne ho io se mi chiamano in continuazione? e quando è che ti hanno chiamato? mentre stavamo catturando questo aiuto porca miseria stia attento lei signore e anche lei via via non sente le sirene? via via sono le sirene spienate via ecco di po' a sinistra di po' a sinistra si arrivo ok ok attenzione curva mamma mia che curve mamma mia che curve ragazzi aiuto che curve che curve che curve che curve maronna che curva sono le curve a vomito queste aiuto aiuto maronna fermati fermati e qui qui sei sicuro? si il radar eh si ho sbagliato porca c'è la miseria che cos'è? sembrerebbe un enorme vespone si un grosso enorme vespone signora non faccia gi-gi-gi adesso eh si perché almeno lo chiamo Bruno no no non chiamarlo signora non lo chiami è un paziente no no aiuto maronna si è girata fuoco 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 wow 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 butta la trappola butta la trappola uffi già ma non abbiamo altre e tu me la dici adesso allora scappa scappa allora porca c'è la miseria aiuto ormai l'abbiamo preso ormai l'abbiamo quasi preso dai dai accendiamo quella dell'autobus dai presto che ti apro vieni vieni Dov'è l'entrata? Un aiuto, o mi sono perso? Aiuto, ma non è lì! Presto, presto! Entra, Inca, vai, vai! Accendi quella dell'autobus! Accendila! Brava! Vai, 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 sopra! Catturato! Catturato! Signori, quattro, tre fantasmi catturati! Signori, e anche con questo fantastico, diciamo, video, Abbiamo concluso! Aspetta, dov'è? Io! Abbiamo concluso, almeno spero, Con questa piccola cattura di fantasmi, diciamo, insettoidi! Cioè, tra insetti e un mega rinoceronte, Perché non è un insetto rinoceronte! Anthony, ma cosa dici? Io non ho detto niente! Eh, no, l'ha detto lui! Bene, ragazzi, un abbraccione! Alla prossima! Ciao, belli! Ciao! Io sono Bruno Di Zulu, iscriviti al mio canale! Io sono Bruno Di Zulu, e questo è il mio canale! Ciao!